ciao buongiorno come state il nostro solito posto del dopo diretta del martedì anche oggi eravate tantissimi visto che martedì scorso insomma non ci siamo ritrovati perché rinfiare al lavoro e oggi abbiamo di nuovo chiacchierato di tantissime belle cose beh intanto abbiamo così messo due canzoni che avete richiesto cesare richiesto luna di gianni toni e megana turista un'estate al mare giunni russo per ricordare anche che oggi appunto è il sostizio d'estate e di questo ne abbiamo parlato quindi arriva veramente l'estate e il caldo si sente tantissimo poi insomma depeche ci ha ricordato che insomma era è scomparso un membro del gruppo del suo gruppo amato vero i depeche mode andy fletcher non siamo riusciti però a mettere una canzone depeche comunque ho salutato anche la tua combriccola o i tuoi compagni di lavoro e ho fatto piacere che fosse così in tanti e poi abbiamo parlato anche di elasticità dell'acqua no quindi questa idea di realizzare un servizio nuovamente all'oasi naturalistica come mi richiedeva anche davide per far vedere un po questa siccità come ha portato il cambiamento nei fiumi lui si è proposto anche di accompagnarmi perché no dico io a fine conti insomma è possibile che ci si incontri lungo la strada così come è successo in queste giornate mie lavorative alla grande fiera d'estate dove ho conosciuto walter che insomma era lì per ballare una sera ed era tra l'altro un bravo ballerino e poi a fine serata insomma mi ha chiesto se ero io e così ci siamo conosciuti ecco quindi anche queste diciamo così incontri inaspettati ma che sono molto piacevoli soprattutto quando vi conosco perché è un piacere per me insomma conoscervi anche personalmente così come adesso mi ricordo bene il nome di chi forse perché siete tantissimi ma mi ha invitato a reggio emilia eh ah sì che era il nostro amico che tra l'altro era già in pensione si parlava di temperature caldissime come 35 gradi in puglia eh come insomma quelle di ehm anche in sicilia se non ricordo male questa mattina erano già 23 alle 9 e mezza eh ecco era benedetto che mi diceva che ci raccontava che lui era già eh in pensione beato lui e che quindi insomma aveva questa questa possibilità di fare tutto quello che voleva e io eh in questo senso lo invidio infatti eh glielo glielo ho anche scritto che che lo invidiavo eh di poter essere in pensione già così presto poi per carità lui ha detto che vai iniziato presto a lavorare quindi questo ci sta ci mancherebbe ehm la domanda era anche un po' eh che cosa eh vorreste fare che non siete riusciti a realizzare e che vorreste comunque realizzare molto bella eh quella di Massimo che ci diceva che avrebbe voluto sapere qualcosa di più sul suo ehm diciamo così donatore e scrivere anche un libro su questa storia Massimo è una bella cosa e tra l'altro si è unito a te anche Gas ehm per appunto dire che anche lui dieci anni fa ha ricevuto il cuore e un cuore nuovo e quindi una seconda vita una seconda possibilità anche lui eh insomma ringrazia sempre il il suo donatore eh poi abbiamo parlato anche del calendario che c'è laggiù che è di Sergio Caminata ehm col bellissimo calendario che vedete laggiù alle mie spalle ecco lo indico così e poi di che cosa abbiamo ancora parlato andiamo a cercare ehm ah sì Eros che mi chiedeva se aveva visto il video sulla siccità lo vedrò ma sono stata impegnatissima col lavoro perché ho lavorato tantissimo vado 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 mangio mangio tardissimo quasi alle undici e mezza della sera mi alzo presto stamattina alle sei per altri progetti ero già via in giro eh ho riunioni su riunioni quindi Eros tranquillo lo guarderò e ti risponderò anzi intanto grazie eh grazie tra l'altro insomma per per essere eh con me e avermi ma con noi e averci mandato anche questo questo video eh poi sì lo so abbiamo parlato anche del mio compleanno anche se non ne volevo parlare tanto eh in realtà perché eh insomma quando la cifra è tonda mmm non c'è tutta questa voglia di mettersi lì di parlare di di festeggiare però giustamente si festeggia e anzi voi siete stati buonissimi e gentilissimi eh si parlava di libri anche del fatto come dice Michele che Amazon ha una sua lina racconti una storia e loro te la pubblicano logicamente a pagamento beh sì su questo eh ci mancherebbe eh abbiamo parlato di Cap eh Michele ci vorrebbe andare appunto con sua moglie eh che cosa ne pensavo e io appunto lì vi ho raccontato un po' anche di questo del naturismo, del essere libertini sì c'è uno spazio dedicato a quello eh ma sicuramente molto bella Cap da visitare per il porto, per il commercio eh le spiagge, il divertimento e i luoghi intorno quindi vari eh paesini attorno, la coltivazione delle osse che lo stagno con i fenicotteri rosa, il monte su cui fare delle escursioni quindi insomma non fermarci solo alla parte dedicata al naturismo e al a essere libertini eh in cui secondo me si entra lì dentro e bisogna un po' uscire fuori dagli schemi, non essere troppo chiusi e non giudicare, questa è la cosa bella che là nessuno giudica, forse siamo sempre noi italiani un po' a giudicare troppo. Ecco detto questo però Michele se hai bisogno scrivimi a imhlib.it e io molto volentieri sarò contenta di poterti dare qualche eh così informazione su dove andare e cosa fare e si parlava poi appunto del eh del mio compleanno eh che appunto cifra tonda va bene così ehm e poi eh cosa abbiamo detto beh eh Megalaturista logicamente ha sempre raccontato che eh mi ha mi ha suggerito, mi ha detto ma ricordalo e hai ragione eh che vogliamo un pochettino eh così ehm ricevere fotografie, storie, curiosità, immagini, insomma ricette dei vostri luoghi eh per poterle così mettere in un libro a fine anno per Natale e ricavato devolverlo in beneficenza quindi eh realizzare un po' un libro la nostra storia ecco visto che si parlava anche di nostre storie. Eh queste sono state un po' a grande linee le cose che ci siamo dette questa mattina come vi dicevo insomma saremo insieme ancora ogni martedì a sì abbiamo salutato anche il sapore del viaggio che ci ha detto che lui nell'ultimo suo servizio insomma ha dormito all'interno di una ehm di una fattoria eh proprio nella paglia eh quindi seguitelo perché eh fa degli ottimi reportage. Dicevo nel frattempo noi ci ritroviamo martedì con altre notizie, curiosità, insomma stare insieme e per il resto insomma seguitemi sui vari canali eh si mandano sulla radio patron oppure qui su youtube e naturalmente se volete scrivermi iemacalibachiocciolalibero.it che dire io con questo vi ringrazio vi mando un bacio grosso e alla prossima eh questo possiamo fare io intanto venerdì festeggio lavorando ma festeggio e vi racconterò com'è andato il mio compleanno ciao alla prossima un bacione grande ciao